benvenuti ragazzi 24 novembre 2021 vi invito immediatamente a iscrivervi al mio canale a attivare la campanella ho visto che solo avendo velo detto nei giorni scorti è un po di tempo che mi dimenticavo di dirvelo abbiamo già fatto 10 iscritti in più siamo arrivati a 1380 quindi vi ringrazio e saluto i nuovi arrivati oggi è una giornata anche molto importante per questo paese perché come sapete da pochi minuti il governo ha deciso di inasprire le restrizioni per quanto riguarda l'emergenza covid quindi ci sarà il super green pass e quindi limitazioni molto forti per il no vax diciamo i non vaccinati salvo naturalmente quelli che hanno che ne sono esclusi perché hanno delle patologie particolari dal vaccino che non potranno sostanzialmente fare più un cazzo potranno più andare nei bar nei ristoranti a teatro al cinema in palestra non potranno prendere un treno regionale obbligo vaccinale per insegnanti forze dell'ordine e operatori sanitari tra l'altro che fanno l'obbligo della terza dose diciamo che c'è un clima un po particolare cioè io sono un favorevole al vaccino sono fatto due dosi a febbraio farò quindi forse addirittura aggiornato anche la terza dose del vaccino moderna sono uno di quelli che si è messo diciamo in riga ma c'è capisco che c'è un clima un po particolare in italia su questa vicenda che ha creato grandi spaccature però innanzitutto la prima cosa che vorrei dire è che è facile fare i forti quando il 90 oltre il 90 per cento degli insegnanti è già vaccinato quindi io metto un obbligo che poi va a interessare proprio un esigua minoranza di una categoria è facile anche essere duri diciamo nelle decisioni quando a dover rispettare queste decisioni sono categorie che sono già molto inquadrate e disciplinare come appunto le forze dell'ordine anche i sanitari quindi non lo so mi sembra un'esibizione muscolare che poi tanto muscolare non è in realtà è sicuramente una decisione tardiva oggi siamo oltre i 12 mila contagi ma ormai sarà complicato salvare il natale capito questi provvedimenti dureranno fino al 15 gennaio dal 6 dicembre al 15 gennaio ma diventa complicato salvare il natale perché ormai tutta questa gente non è che correrà a vaccinarsi e si vaccinerà in un giorno in due giorni molti solo vanno anche prenotare non tutte le città sono organizzate con gli uv vaccinali open day come si dice aperti senza prenotazione quindi io per come vedo le cose stiamo facendo un gran casino come al solito anche perché questo super green pass servirà anche su bus e metro oltre che i treni regionali e vi sfido qualsiasi città a riuscire a controllare tutti quelli che salgono sull'autobus sulla metro se hanno il green pass o meno e magari anzi ci fosse un sistema informatico che lo rende possibile elettronico come lo vogliamo chiamare quindi per me si sta facendo un gran casino nel senso che io per come vedo le cose io che sono una persona che tende anche un po semplificare certe volte per me questo obbligo vaccinale andava introdotto dall'inizio molto prima e proprio si doveva arrivare a questo perché tanto vi costringeranno in ogni modo a farlo questo vaccino o per motivi di lavoro per motivi di vario genere quindi sarebbe stato più bello secondo me più più logico dire c'è l'obbligo vaccinale quelli che avranno conseguenze dal vaccino dimostrate saranno risacciti questo per me il buon senso diceva questo si è fatto un pastrocchio sono anni che stiamo combattendo ormai con tutta questa storia speriamo di venirne di venirne fuori presto perché veramente non se ne può più di di questo covid e di tutte le sue conseguenze gravissime per l'economia e anche per la socializzazione noi i ragazzi per esempio hanno secondo me pagato un prezzo altissimo è vero che gli anziani hanno pagato un prezzo più alto in termini purtroppo di vite umane però in termini socializzazione tra la dad e tutte queste limitazioni non poter andare a ballare in una discoteca per dire tutti insieme per un ragazzino di 18 anni è pesante è molto pesante non poter avere avuto accesso alle palestre per tanti mesi non poter essere andati allo stadio al cinema sono cose pesanti per i giovani speriamo che si possa uscire il prima possibile per lo meno entro questo 2022 da questa storia che non se ne va veramente più ma torniamo ora a occuparci di così un po l'argomento che c'è un po più a cuore a noi sportivi il calcio lo sport oggi una triste notizia no quella l'avrete sentita anche voi fabrizio miccoli l'ex giocatore del palermo anche della juventus del lecce nazionale ha giocato anche mi pare una decina di convocazioni non di più in nazionale è un detenuto è regato al carcere nel carcere di rovigo dove a questo punto penso che forse risiede per scontare una pena di tre anni e mezzo confermata cassazione io veramente ricordavo di proposte di archiviazione da parte della procura ma una brutta storia di usura per recuperare scusate di estorsione quindi di violenza di violenza per recuperare un credito di 12 mila euro mi pare di aver capito che miccoli stava cercando di recuperare per conto di un amico dal proprietario di una discoteca perché naturalmente non è che miccoli ha bisogno di 12 mila euro ovviamente con la carriera che ha fatto una storia bruttina proprio brutta tra l'altro risalente a tanti anni fa quando miccoli era al palermo purtroppo una storia tra virgolette pesante perché poi nelle intercettazioni miccoli avrebbe detto avrebbe parlato in termini pesanti dei magistrati come di giovanni falcone probabilmente questa cosa un po anche aggravato la sua posizione insomma c'è tutto uno strizzare l'occhio verso il mondo mafioso verso il mondo della criminalità non solo in questo caso ma in generale da parte della nostra società negli ultimi anni molto preoccupante dal quale bisogna assolutamente uscire perché io penso che serie tv come gomorra il romanzo criminale se non fossero mai esistite sarebbe stato meglio io capisco diciamo l'appeal che hanno perché sono fatte anche bene secondo me gli attori sono anche bravi però secondo me andavano le storie raccontate in una maniera un po' differente cioè c'è l'impressione un po' della celebrazione del male e del crimine gomsaviano purtroppo è andato un po' contro quello che lui voleva fare sotto certi punti di vista ma non per colpa sua perché purtroppo questi personaggi così forti così fuori dagli schemi dalle righe da tutte le regole funzionano maledettamente bene a livello televisivo cinematografico perché le immagini colpiscono molto più di mille parole quindi se io faccio un video di due ore parlo di tante cose come sto facendo oppure faccio un video dove prendo uno lo prendo a testate per dire tanto va di modo da andare in modo alle testate in questi ambienti o a pugni è un video magari di 15 secondi purtroppo per un meccanismo perverso a livello di diciamo di ascolto quel video dei cazzotti delle testate fa centomila visite in più rispetto a quello dove sto cercando di trasmettere delle informazioni e di condividere delle riflessioni purtroppo è una cosa perversa questa che bisogna cercare di di limitare il più possibile perché nell'era di tik tok non sarà facile tutto questo perché finché siamo su youtube ancora importante parlare ragionare eccetera quando si cominciano i social si cominciano a spostare l'attenzione dei social su instagram su tik tok su queste cose qua diventa veramente un casino speriamo quindi che la nostra società possa avere un una specie di moto d'orgoglio per cercare di mettersi un po in piedi perché ho l'impressione che negli ultimi vent'anni proprio è stato un continuo lasciarsi andare sempre verso più sempre più verso il trash verso il basso verso i bassi fondi proprio noi ci avrebbe sotto certi punti di vista un nuovo rinascimento a tutti i livelli a livello politico a livello artistico a livello letterario a livello musicale a livello di qualsiasi di qualsiasi perfino a livello di chiesa per esempio dove si sentono sempre di più casi di pedofilia eccetera eccetera è una fase storica molto complicata per quanto riguarda miccoli io l'idea che mi sono fatto che il ragazzo è stato un po trascinato in una situazione un po più grande di lui dove ha perso un po il limite confine tra quello che si può fare quello che non si può fare perché io non sapevo che questa persona era figlio di un mafioso eccetera eccetera che è trovato un po così ha dimostrato diciamo di essere un po superficiale nel giudicare le persone ma ci può stare perché nel mondo del calcio sai sei giovane sei sulla crescita dell'onda esci di casa tutti ti chiedono fatti una foto con me ti invitano da tutte le parti cioè tu non è che puoi andare a chiedere la fedina penale di tutti quanti quelli che ti fanno una proposta capito cosa voglio dirvi quindi anche con maradona si è creata un po questa situazione a napoli io vedo delle analogie tra questa storia in piccolo e la vicenda di maradona a napoli che anche lui si lascia un po trascinare da tante situazioni perché a napoli avevano capito che maradona aveva delle grandi debolezze era tra virgolette passatemi il termine un dio in campo ma era maledettamente invece uomo fuori dal campo debolezze verso le donne verso la bella vita scusate gli stupefacenti come sapete eccetera eccetera a debolezze più che vissi c'era questo bisogno ogni tanto di così di fare queste cose e queste debolezze purtroppo mi sono costate tanto secondo me perché purtroppo sarà sempre un po ricordato come grandissimo giocatore ma con tutte queste ombre auguro a miccoli che non credo farà una detenzione lunga perché sicuramente adesso un po deve stare in carcere ma poi credo che avrà dei benefici di pena tra l'altro non ha potuto neanche beneficiare della pena alternativa al carcere perché questo tipo di reati quindi estorsione con metodi mafiosi con l'aggravante della modalità mafiosa non prevedono neanche la possibilità proprio per la gravità quindi è una cosa un po particolare nel mondo del calcio con un mondo così dorato così ricco sentire un giocatore che ha questo tipo di problema mi pare ci sia stato un precedente con gli acquinta però riguardava il padre mi pare di ricordare anche lì ci fu un precedente un po strano un po adesso non me lo ricordo bene una storia anche lì di malavira organizzata mi pare ma potrei dire una cosa sbagliata quindi mi devo documentare perché non me lo ricordo più è passato un po di tempo comunque io sono sempre stato un estimatore di Fabrizio Miccoli è un giocatore che secondo me ha potuto fare molto di più anche in nazionale fisicamente ho sempre pensato che gli mancava qualcosa nel senso che un po più di a volte lo vedevo un po fuori forma ecco grandi piedi però a volte mi davase impressione sempre che dovesse perdere qualche chilo insomma ma era un giocatore che aveva dei colpi straordinari veramente comunque questi sono i fatti di cronaca e non è semplice neanche provare un commento sicuramente è una vicenda molto molto triste poi altra cosa da dire altra grande novità per quanto riguarda il campionato è che questo campionato sarà molto condizionato dall'infortunio occorso al forte centravanti napoletano nigeriano victor osiman contro l'inter perché è un infortunio grave molto grave cioè sarà recuperato ma qui si parla di come sapete osiman nella sfortunata raspetta di Milano si è rotto la faccia praticamente l'orbita addirittura dell'occhio quindi addirittura un intervento complicato con sei placche che sono state messe sul volto con 18 viti pensate probabilmente forse anzi non probabilmente sarà necessaria anche una seconda operazione per stabilizzare questa situazione ho letto un articolo oggi sulla gazzetta proprio tosto proprio e devo dire che i medici che fanno questi lavori questi professori maxilofasciali sono dei veri maghi perché ti ricostruiscono proprio il volto certo è chiaro che il ragazzo quando rientrerà rientrerà sicuramente in forma perché non è che si è rotta una gamba quindi potrà presto cominciare a fare tanto tanti allenamenti no tanto allenamento corsa eccetera eccetera piano piano riuscirà a fare tutto quando andrà in campo i primi tempi è molto giovane ancora però è chiaro che sui contrasti aerei sulle palle alte sui colpi di testa ma soprattutto sui contrasti aerei bisognerà vedere un po' come sarà avrà bisogno di un po' di tempo cioè ci saranno anche questi tre mesi di inattività che non sono pochi ma potrebbero essere anche di più ma la tecola Osimena stravolge la stagione del Napoli che tra l'altro ha perso anche in signe perché naturalmente poi piove sempre sul bagnato perché Osimena è un giocatore che ha cambiato il volto del Napoli ma anche un giocatore che non è facile da sostituire per le sue caratteristiche tecniche atletiche di vigoria un giocatore bello perché ti mette allegria diceva il regista Sorrentino Osimena è un giocatore onirico è vero ma è uscito da un sogno da un quadro è molto particolare no a partire dal taglio dei capelli ma anche dal suo modo dinoccolato ma nello stesso tempo perentorio di andare in progressione sotto certi punti di vista se ve lo ricordate mi ricordo un po' Tino Aspriglia il famoso tiramolla del Parma ma questo è un giocatore però che fisicamente è molto più prestante molto più alto più completo anche Aspriglia aveva dei grandissimi colpi e questo è un giocatore efficace perché Osimena non è solo un bomber ma uno che passa la palla che fa l'ascis che vede il gioco un giocatore a tante qualità il Napoli che reduce dalla sconfitta per 3-2 a San Siro oggi ha giocato in Europa League a Mosca e a testa anche oggi 2-1 è andato sotto 2-0 con Petagna al posto di Osimena Petagna è un giocatore che io conosco bene perché ha giocato anche nella squadra della mia città latina anche se quell'anno mi è sembrato che si sia impegnato proprio tanto magari ha una categoria inferiore è stato attento anche a non farsi male un giocatore che non è da squadra che deve stare nei primi quattro posti è un giocatore che va bene negli ultimi 20 minuti a questi livelli nella partita che non si sblocca allora tu butti in campo Petagna su Napoli-Udinese 0-0 a 21 della fine e Petagna a forza di buttare le palle in mezzo fa valere la sua prestanza fisica e ti fa la spicciata magari che ti dà la vittoria come stava accadendo proprio l'anno scorso in Napoli-Verona ultima di campionato che valeva la città della Champions League e negli ultimi minuti Gattuso prova anche la gatta Petagna che di testa ha sfiorato proprio il gol che avrebbe portato il Napoli in Champions League con la clamorosa esclusione della Juventus quindi è chiaro che con Petagna io credo che poi alla fine il titolare diventerà Mertens con Petagna il Napoli perde tanto Mertens è un ottimo giocatore però ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Osimena io temo che il Napoli pagherà un prezzo molto alto all'assenza di Osimena che tra l'altro salterà anche la Coppa d'Africa per causa di questo infortunio con questo scontro con Milan-Scrinia dell'Inter a centro area che lì per lì sembrava un banale scontro e invece fin dalle prime immagini quando lui esce dal campo lui dice sono uscito in piedi per non far preoccupare troppo amici e parenti pensare un po' si vedeva proprio che era molto sofferente ma non pensavo però fino a questo punto fossero i danni provocati da tra l'altro il fortuito sconto non c'è stata nessuna cattiveria da parte dell'ex Sampdoria Mina-Scrinia credo che questo fattore Osimena potrebbe veramente dare un'impronta diversa a questo campionato e credo che a questo punto anche l'Inter rientrerà in gioco che tra le altre cose io continuo a considerare la squadra più completa secondo me come organico una squadra alla quale non manca nulla quindi vedremo poi oggi è la vigilia parlando di Roma di Roma-Zoria la squadra ucraina per quanto riguarda la partita di Conference League dopo la grande vittoria di la grande l'importante vittoria di Genova in campionato con la doppietta di Felix il giocatore del quale sta parlando tutta Roma il ganese Felix a Fena Gianna domani giovedì 25 novembre all'ora 21 allo Stadio Olimpico scende in campo lo Zoria una squadra ucraina per la quinta giornata della Conference League fase a Gironi dopo i play-off che la Roma ha superato opposta al Trasbon Sport gara che andrà su da zona con la telecomica di Pierluigi Paddo e Montolivo su Sky Spot 1 su Sky Spot canale 252 il streaming visibile sempre su Dazone su Sky Go applicazione gratuita e su Now TV poi all'andata ricorderete forse il 30 settembre la Roma vinse per 3 a 0 era tutta un'altra situazione in quel momento la Roma andava a 1000 la partita vincendo tante partite poi una grave crisi soprattutto tattica secondo me dirige l'incontro Kovacs partita importante quella di domani perché vedremo ritorno non tanto solo di Zaniolo ma soprattutto di Chris Smolling che rivediamo dopo tanto tempo io sinceramente su Smolling non ho più tanta fiducia nel senso che io sinceramente ve lo dico prima mi aspetto 3-4 grandi partite e poi come al solito si farà ancora male perché lì secondo me c'è un problema proprio strutturale però speriamo di sbagliare che Smolling possa fare tutte le restanti partite di questa stagione perché è un giocatore che tecnicamente sposta veramente gli equilibri della Roma come anche del resto Spinazzola cioè se la Roma avesse avuto dall'inizio di questa stagione Smolling e Spinazzola sarebbe seconda ecco questa è la storia allora Roma quindi in campo domani attualmente la formazione titolare non c'è ma potrebbe essere ancora con il 3-4-1-2 che è il nuovo modulo di Mourinho lui Patricio naturalmente in porta linea a 3 in difesa Mancini Smolling e Bagnac a centro campo da destra a sinistra Cardoff Darboe Veretù Calafiori e poi Zaniolo che dovrebbe essere impiegato potrebbe essere impiegato salvo i pensamenti dietro due punte che saranno Sommuro dove Abra ma io penso che Felix aveva ampio spazio in questa partita magari nel secondo tempo io personalmente lo avevo fatto giocare dal primo minuto ve lo dico perché secondo me a Genova si è messo veramente in luce questo ragazzo e si poteva anche rischiare visto il modesto livello di un avversario che gioca al 4-3-3 l'allenatore si chiama Skripnik Skripnik la formazione non ve la leggo perché sono nomi talmente complicati che non so proprio come faranno domani a fare le telecronache che faccio innanzitutto fatica io a leggerli e sono convinto che non capiresti assolutamente di chi sto parlando quindi una squadra quotata la vittoria della Roma domani 1-10 io non parlo più dopo quello che si è visto col Bodo Klimt mi auguro solo che la palla domani sia capito di questo colore prenda questa colorazione durante questa partita secondo me partita già all'andata 3-0 si è vinto dovrebbe essere praticamente questo il gap fra le due squadre ma aspetto perlomeno un 3-0 poi vedremo vedremo se saranno voglia di giocare questi ragazzi tra l'altro anche Roger Ibagnez starebbe nel mirino di Roberto Mancini citena nazionale che ha il problema adesso con il nuovo anno di affrontare gli spareggi per le qualificazioni mondiali e si è praticamente offerto di giocare il nazionale Gioao Pedro come forse sapete il centravanti del Cagliari brasiliano ma che ha sposato un'italiana mi pare che per questo è il motivo che ha la cittadinanza italiana Mancini pare che stia valutando Gioao Pedro come sta valutando anche Luis Felipe centrale della Lazio anche lui ha la cittadinanza italiana e giocatore sinceramente non pensavo potesse rientrare nel giro della nazionale ma anche Roger Ibagna ci ha offerto giocatore di nazionalità brasiliana che tra l'altro ha avuto anche una pre-convocazione con la nazionale brasiliana e pare che Mancini stia tenendo molto in considerazione queste candidature del resto ci sono già giocatori naturalizzati come sapete nella nostra squadra da Giorginio a Emerson Palmieri quindi è chiaro che il mondo è cambiato tutte le nazionali hanno giocatori oriundi eccetera eccetera quindi obiettivamente non c'è assolutamente nulla da eccepire si tratta solo di valutare dal punto di vista tecnico qual è l'apporto che questi giocatori possono dare a me personalmente vi dico la verità Luis Felipe grande fisico ma non lo conosco bene mi pare che abbia fatto anche degli svarioni ma credo che mi pare di capire nell'ultimo tempo negli ultimi periodi è migliorato molto Luis Felipe ma non mi sembra un giocatore nazionale Ibagna è un sincero vi dico la verità è un mio pallino secondo me è un giocatore al di là della forza atletica che è sotto gli occhi di tutti che ha dei margini di miglioramento enormi ma non solo per la giovanità proprio perché delle volte fa degli strafaccioni tali nel suo essere irruente in certe entrate che si capisce che si può tanto migliorare questo giocatore tra l'altro molto forte anche in fase offensiva anche con la Roma ha segnato dei gol anche importanti soprattutto su corner per far valere la sua prestanza fisica per quanto riguarda Gioao Pedro è una valutazione non semplice perché è un buon giocatore sinceramente non mi pareva un giocatore di cui potesse giocare nazionale devo mettere Gioao Pedro mi tengo immobile comunque il fatto è che nel Cagliari la squadra gioca molto per lui quindi è uno che segna in tutti i modi segna di testa segna di piede in velocità di rapidità è un bravo rigorista sicuramente un giocatore completo come questo giocatore si potrebbe inserire nel gioco di Mancini non lo so perché a me pare che Mancini avrebbe invece bisogno di un centravantone uno da Lavieri per intenderci in questo senso molti fanno il nome di Lorenzo Lucca centravanti del Pita che è alto quanti due metri che sta segnando tanti gol ma gioca naturalmente nell'Under 21 ma è chiaro che non c'è tempo non è proponibile a meno che dovrebbe finire tre gol a partita ma è troppo giovane non si può puntare su un giocatore del genere in ottica mondiale però come caratteristiche fisiche andrebbe bene cioè a noi ci serve ripeto un Cristian Vieri di oggi cioè un giocatore molto potente molto bravo a farci spazio a difendere palla forte sulle palle alte questo tipo di giocatore immobile non è questo ma neanche Belotti cioè Belotti è un giocatore che in Italia sembrava un altro giocatore rispetto a quello visto in nazionale quando al confronto di giocatori più forti Belotti dal punto di vista offentivo è scomparso ma questa cosa non ci deve sorprendere perché noi l'abbiamo visto ieri in Champions in Chelsea Juventus 4 a 0 cosa vuol dire per le squadre italiane misurarsi con le squadre di mezza Europa il livello del calcio italiano ragazzi è sceso l'Atalanta ieri sul campo dello Young Boys che era ultimo in calcifica nel giro di Champions ha rimediato un pareggio all'ultimo minuto sul calcio di punizione grazie a un'ottima punizione di Luis Murray che è appena entrato in campo ha rischiato di perdere su un campo che secondo me era ampiamente alla portata adesso all'ultima partita in casa con l'Ester vincendola si dovrebbe qualificare ma naturalmente ha perso un'occasione ieri l'Atalanta ma ripeto al cospetto oggi il Napoli ha perso 2 a 1 a Mosca quindi come vedete al cospetto di squadre straniere e il Napoli stiamo parlando di una squadra che anche senza osimene è prima in classifica il Milan sapete che in Champions è andata male oggi gioca a Madrid ma ha perso un sacco di partiti anche immediatamente però chiaro che tutti non parliamo poi della Roma che cosa ha combinato in Conference League come sapete col Bodo Klimta quindi come vedete noi forse li sopravvalutiamo pure un po' questi giocatori perché quando c'è l'incontro appunto con le squadre cioè se noi non vinciamo mai una Champions per sintetizzare ci sarà motivo è chiaro questo ma non riusciamo a vincere la Champions da non so più neanche quanti anni dai tempi dell'Inter credo credo che l'ultima Champions sia quella dell'Inter e il triplete quindi cos'è al 2010 da tanto tempo quindi il calcio italiano sicuramente sta vivendo un momento molto complicato a livello di abbiamo fatto il miracolo di vincere i campionati europei di calcio però questo miracolo è stato subito pagato dalla difficoltà di qualificazione mondiali che è una cosa che ci fa capire che probabilmente agli europei ci è andato anche un po' tutto bene negli episodi perché poi alla fine non siamo riusciti poi a battere una squadra per due volte una squadra come la Svizzera che insomma non è che fosse proprio il Brasile di Pelè comunque vedremo adesso Mancini cosa deciderà qualche altro nome potrebbe uscire fuori io sinceramente Luis Felipe avesse la cittadinanza italiana non lo sapevo proprio non sapevo neanche che Gioao Petro l'avesse mentre i Bagnes lo sapevo ma sono giocatori che sono buoni giocatori ci si può ragionare sopra e vedremo un po' da qui a marzo ci saranno anche delle amichevoli di preparazione di queste importantissime partite e vedremo un po' cosa deciderà di fare Mancini per cercare di strappare il biglietto per il mondiale in Qatar vi ricordo ancora iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le ultime uscite buona serata a tutti